Il gruppo scout a Gesci Ruvo 1, domenica 18 dicembre, ha fatto dono e ha distribuito la luce della pace di Betlemme, nell'ambito dell'evento I sentieri della solidarietà, organizzato da Puglia e Terre e la Casa Don Tonino Bello, in collaborazione con la Fondazione Angelo Cesareo. La ventunesima edizione di questa iniziativa, organizzata dal Comitato Luce della Pace da Betlemme e sostenuto dai gruppi a Gesci, Amis, FSE e Masci, ha assunto un significato particolare in questo anno, che sta volgendo al termine funestato da un incredulimento dei conflitti, da foschi scenari di guerra e rigidimento delle relazioni internazionali. Che la piccola luce di Betlemme possa illuminare tutti è l'augurio. Essa proviene dalla lampada d'olio, conservata nella Chiesa della Natività di Betlemme, che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall'olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane. E a dicembre di ogni anno quella fiamma si scinde in tante fiammelle che vengono diffuse su tutto il pianeta, come simbolo di pace fra i popoli e di fraternità, grazie all'operato degli scout che compiono questa missione dal 1986. Un importante appuntamento che si rinnova annualmente anche a Ruvo di Puglia.